Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 29 ottobre. Vi ricordo che come tutti quanti lunedì ci sarà questa sera Quarta Repubblica in prima serata a Rete 4, quindi per quei pochi che ancora non lo sapessero, in realtà sono tanti perché la informazione su Rete 4 è arrivata da poco, vi do un appuntamento per questa sera, non perdetelo. Parleremo delle divisioni del Movimento 5 Stelle e poi parleremo di una cosa molto chiara che è anche il filo del ragionamento che oggi vedete sui giornali. E cioè qual è il filo del ragionamento? Se si viene eletti facendo gli antagonisti, in realtà non riguarda soltanto il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma se pensate anche a Renzi che venne eletto sull'onda della rottamazione e poi non si rottama il paese, anzi si diventa rottamati, la stessa cosa vale per questo governo. Erano contro la TAP, contro la Tav, contro la corruzione, contro l'immigrazione clandestina eccetera. Quando poi l'immigrazione non puoi farla scomparire in un giorno, purtroppo dico io, quando la TAP, grazie al cielo dico io, non la puoi invece far scomparire in un giorno, allora a quel punto ti rendi conto che devi fare, un grande saluto all'amico Luca Donadel, ti rendi conto che a quel punto devi fare i conti con la realtà. La cosa più incredibile dei Repubblica e Corriere della Sera di oggi è che ieri, in un incontro che c'è stato tra Di Maio e Salvini, sapete perché cosa è servito? Per un piano anti-spread o meglio come mettere in campo degli strumenti se dovesse saltare una banca italiana e c'è già un nome e cognome negli retroscene dei giornali italiani che sarebbe il credito valtellinese che è quello che potrebbe reggere meno all'aumento dei tassi di interesse. Il motivo è evidente, ve lo spiego una volta per tutte perché è semplicissimo, le banche si comprano il nostro debito pubblico, i nostri titoli di Stato hanno un sacco di titoli di Stato in pancia, mentre un giornalista, un artigiano, un commerciante, chiunque che ha un titolo di Stato lo tiene e poi quando scade in cassa va bene? Lo tiene fino a scadenza, quindi se ne fotte dell'andamento del prezzo di quel titolo perché non è un'azione, è un titolo, quindi è un'obbligazione e questa obbligazione mi restituirà fra un anno, fra due anni, fra cinque anni, cento a cui io più o meno l'ho pagata. Le banche non funziona così, cosa succede? Se hanno un'obbligazione che hanno pagata cento e domani mattina, visto che aumentano gli interessi, vale 90, deve scrivere nel bilancio che ha perso 10 euro, ma come non l'ha ancora persi? È così, cioè deve valutare il suo magazzino giorno per giorno, vi è chiaro? Quindi, ciao Edmondo, quindi valutarlo giorno per giorno fa sì che alcune banche, se gli interessi salgono troppo, rischiano di saltare. Di questo se ne ha reso conto anche il governo, benvenuti, e stanno predisponendo uno strumento, un decreto per salvare le banche. È un po' come faceva Tremonti, vi ricordate il mago del gioco delle tre carte, però sempre in maniera professorale. Brunetta oggi sul giornale invece ci vuole convincere che lo spread del 2011, cioè quello che lui aveva detto il complotto, 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 è diverso rispetto al 2018. Siccome è una persona intelligente, anche se è un carattere che non vi consiglierei, i motivi per i quali lui dice che nel 2011 era diverso rispetto al 2018 sono tre, che nel 2011 eravamo contagiati dalla Grecia e non eravamo noi a propagare il contagio, nel 2011 c'era la speculazione di Deutsche Bank e nel 2011 non c'erano ancora le difese della Banca Centrale Europea. Questi argomenti sono abbastanza verosimili, sono scritti bene, anche se è lunga, potrebbe scriverlo in 40 righe e non in 100 righe, ma questo fa parte del brunettismo, però c'è un piccolo elemento caro Brunetta, cioè tu mi devi spiegare una cosa, come fai in maniera semplice ad aver fatto la polemica con lo spread contro gli speculatori, contro i mercati, contro le banche cattive per sette anni e oggi improvvisamente essere uno di quelli che invece pensano che lo spread sia il termometro che misura la bontà di questo governo? È evidente che nonostante il tuo articolo, la posizione dell'epoca, che può anche essere verosimile, si ripropone esattamente oggi con la 30 verosimilianza. Chiaro? Vabbè, insomma, questo sarà molto difficile che Brunetta lo possa capire perché Brunetta capisce soltanto quello che lui dice e quello che lui, voglio dire, tutti gli altri sono cretini tranne lui. Io penso che lui non sia un cretino, che abbia detto delle cose anche ragionevoli oggi, ma politicamente purtroppo hanno peso pari a zero. Sul reddito di cittadinanza purtroppo, e non ci sono più i Brunetta, e data anche la mia antipatia nei confronti del personaggio, penso che meglio un Brunetta che un Tridico, perché questo Tridico, questo Tridico, professore di economia, oggi ci spiega il reddito di cittadinanza e il consulente di Di Maio e dice, ma guardate per il reddito di cittadinanza ci sarà una ricerca attiva e documentata del lavoro che noi faremo nei confronti di coloro che saranno beneficiati, ci sarà una frequenza dei corsi di farmazione, ci sarà una disponibilità che devono dare ai lavori utili, ma che stai a di? E lui, viste queste tre cose, in questo contesto gli abusi sono difficili se non impossibili. Ecco, questi sono i professori comunisti, peraltro, perché quello è un comunista Tridico, questi sono i professori che dicono che basta scrivere una legge, quindi devi fare formazione, devi stare a fare dei lavori se disponibili socialmente utili. Cazzate! Scusate la volgarità, non dicevo parolacce da un po' di giorni. Stupidaggini! Questo, basta andarsi a vedere come sta funzionando il REI e quanti furbetti che ci sono sul REI, voi dovete immaginare che a 5 milioni di persone verrà dato un reddito di cittadinanza e secondo voi noi controlliamo 5 milioni di persone che facciano, che si attivino per trovarsi un lavoro. Secondo voi troveremo 5 milioni di persone che faranno dei corsi di formazione, che troveranno dei lavori che altrimenti non avremmo trovato, dei corsi di formazione che sono il mangificio di questo paese. Secondo voi, in un posto in cui noi non riusciamo nelle pubbliche amministrazioni neanche a controllare i pubblici dipendenti che paghiamo ogni giorno, noi controlliamo 5 milioni di persone che faranno i lavoretti nei comuni. Ma che state a dire? Ma dove vivete? Con i badge non riusciamo a controllare i dipendenti pubblici e secondo voi controlliamo quelli che hanno il reddito di cittadinanza? Balle! Ma comunque tanto le paghiamo noi. Altra grande questione di giornata è la TAP. La TAP ha detto il Presidente del Consiglio, prendetevela con me in tutti i giornali perché sono io che l'ho voluta fare, evidentemente cercando di fare uno scudo a Di Maio che in campagna elettorale lui e l'Alezia hanno detto che sarebbe successo un casino, non sarebbe mai passata la TAP. Adesso piagnucolano e dicono che purtroppo ci sono dei risarcimento penali, dice Di Maio, ma siccome questo lo sapevano benissimo anche prima, che c'erano dei risarcimento da pagare alle aziende private che si erano occupate e la Lezzi si permette di dire oggi che il sindaco di Meledugno con cui lei stava a braccetto e oggi diceva non mi sono mai piaciuti, le maniere da teppistello del sindaco non mi fanno paura, il Ministro del Sud, Lezzi, dice le maniere da teppistello del sindaco non mi fanno paura. Io vi voglio ricordare che, lo trovate sulla pagina della Lezzi, quando lei dice che le maniere del sindaco sono dei teppistello e nei miei confronti mi disse, quando io dissi che io avrei preso a calci nel sedere i genitori che mettevano i bambini a evitare che si facessero quei lavori, i genitori prendevano i bambini come scudi umani e li utilizzavano per bloccare le ruspe, chiaro? E io dicevo quei genitori devono essere presi a calci nel sedere perché utilizzano i bambini per motivi politici e la Lezzi mi scrisse, dobbiamo prendere tutti a calci nel sedere Nicola Porro sulla sua pagina Facebook. La senatrice, oggi Ministro del Sud, mi voleva prendere a calci nel sedere a me e considera il suo sindaco di Meledugno dove lei ha preso il 62% promettendo che non c'era la TAP che ha oggi un modo di fare da teppistello. Lei accusa lui di essere un teppistello, lui era ieri come lui era l'altro ieri. Tra l'altro questi metodi teppistelli di cui si lamenta la Lezzi e il Movimento 5 Stelle in Puglia hanno preso 24 seggi su 24 in Puglia, tutta la Puglia ha votato per loro, 42 parlamentari su 62 compreso il proporzionale, hanno preso il 40% in Puglia. Se i pugliesi sono, e io non posso essere considerato lontano da loro, hanno votato, questi se li tenessero. Teneteveli, teneteveli. Tanto questi sono dei cavola... Vabbè, insomma, non mi fate dire. Il punto di vista interessante oggi è quello di La Spina sulla stampa e anche quello di Giannino sul messaggero che dicono una cosa semplicissima, che è grave, gravissima! E dicono che siccome abbiamo concesso la TAP al Movimento 5 Stelle, sai che concessione? Si tratta di un modo intelligente per far arrivare in questo paese una diversificazione energetica e comunque è un'infrastruttura perfetta che non darà nessun fastidio alla Puglia, nessuno, zero! Bene, siccome noi faremo la TAP, non faremo la TAV. Questo è la merce di scambio. La Torino-Lione che vede oggi il commissario per la Torino-Lione che scrive l'ennesima intervista, gli fanno intervista a Corriere da Sera e dice non sono stato neanche contattato da Toninelli. La Spina che spiega sulla stampa cosa vuol dire per il nord-ovest perdere la Torino-Lione. Giannino che ci spiega quante delibere del Cipe, quanti anni che la stiamo pensando, quanto futuro è ipotecato se non si dovesse fare. Vogliono fare l'analisi costi-benefici, come dice giustamente la Spina, oggi sulla stampa per un progetto che avrà effetti per i prossimi 100 anni. Noi vogliamo progettare, sapere cosa succederà nei prossimi 100 anni. Vabbè, una cosa pazzesca, pazzesca. Nel frattempo è altrettanto pazzesco il modo con cui i nostri giornali, soprattutto Corriere della Sera, tratta il presidente del Brasile, che si chiama Bolsonaro o Bolsonero, ma ne frega niente come si chiama. Comunque vince in Brasile al 55% l'ultradestra, l'uomo nero, dice Repubblica. Io una cosa non riesco a capire. Questo signore che ha vinto in Brasile, che sarebbe l'uomo nero, ha vinto e ha sconfitto il partito del popolo. Il partito del popolo ha espresso un signore che si chiama Lula, che oggi è dove? In vacanza a, non lo so, a Rio de Janeiro? No, in galera, in galera. E perché in galera Lula? È in galera a Lula per il semplice motivo che è stato condannato per corruzione. Allora, il loro mito di Cotroneo, di Gaggi, di tutti questi qua. Lula è in carcere per corruzione, sui giornali che ci fanno una testa di così, sull'importanza della corruzione, l'onestà. E questo qui, invece, è immediatamente l'uomo nero. Beh, io dico, a me va tutto bene. Magari è anche, come dice Barbara, una destra becera, anche se, come dice giustamente Barbara, la destra è sempre becera, no? Quando metti destra è sempre becera, quando metti sinistra è sempre progressista. Questo è sempre becera. Allora, la cosa che mi entusiasma a me è, è possibile che c'è sempre questo... Cioè, mentre il mondo va da una parte, gli elettori vanno da una parte, che vuol dire anche Lega e Movimento 5 Stelle, noi abbiamo ancora Gaggi, Cotroneo, che ci raccontano l'uomo nero. Gli isolano le cinque frasi impronunciabili, una di queste è detta nel 1996, e ci fanno capire com'è l'uomo nero. Finalmente c'è un vero uomo nero, amico mio, che si chiama Buttafuoco, che oggi Sul Fatto, mi sembra Sul Fatto, fa un pezzo delizioso sui due libri, il primo quello di Calenda, l'altro quello di Molinari, che sono omaggiati dalla bella gente, come la chiama Buttafuoco, che stanno avendo successo, pare, nelle librerie, e dice Buttafuoco, fantastici questi libri, che piacciono alla bella gente, riempiono gli scaffali, ma il cui senso, il cui voto, poi è pari a zero. Riempiono le librerie questa bella gente, ma non riempiono le urne, anzi le urne sono piene di like. Molto bello il pezzo di, come spesso avviene a Buttafuoco, l'uomo nero, che oggi io voglio omaggiare come grande scrittore. Un abbraccio a tutti quanti voi, questa sera c'è Quarta Repubblica, mi raccomando, non mancate, ciao!